La segnalazione cambio corsia utilizza una telecamera dedicata e avvisa il conducente se si attraversa in modo non intenzionale la linea continua o tratteggiata della strada in caso di mancata attivazione degli indicatori di direzione. Viene emesso un segnale acustico e l'indicatore di superamento della corsia laterale sul quadro della strumentazione diventa rosso. Il sistema si attiva a una velocità superiore a 70 km orari e in caso di rilevamento delle corsie. È possibile attivare questa funzione dallo schermo multifunzione.